Buona raga, sono Jessica e questo è il Laboratorio Wall in un nuovo video sull'armatura dell'orso e dell'ariete. Allora, abbiamo visto nei video precedenti come abbiamo fatto insieme gli spallacci e l'armatura più o meno completa, nel senso che vi abbiamo fatto vedere la pettorina montata su un manichino, eccetera. Insomma, per vedere tutti i video precedenti a questo vi lascio il link diretto alla playlist, tipo qui, più o meno qui. Quindi non perdetevi anche i passaggi precedenti. Allora, in questo video andremo a fare invece i pezzi del cinturone, di cui sono già stati fatti i cartamodelli, tagliati i pezzi, e abbiamo iniziato a incidere già questi due piccoli pezzi e adesso faremo insieme questi. Penso che off camera poi farò tutto il resto, anche perché saranno ore e ore di video da montare, quindi ecco, magari rifacciamo un po' di meno, giusto per farvi vedere. Tanto è tutta una... la decorazione è tutta la stessa ripetizione, insomma. Comunque, andiamo avanti e insieme facciamo questi pezzi. Comunque, andiamo avanti. Allora, ragazzi, i quattro pezzi piccoli del cinturone ne sono stati battuti. Avete visto parte della decorazione che abbiamo fatto insieme. e andiamo avanti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.